Da qualche mese ricevo messaggi da una persona colta di Vergato che commenta, dice e mi invita a venire qui. Io pensavo di venire a presentare il mio libro, che è quello su Leonardo, poi alla fine abbiamo tardato negli accordi con l'Avaro Comune e mi sono trovato, senza averlo pensato, candidato per Forza Italia, Bologna, Ferrara e Parma. Quindi ho detto io a Vergato ci vado, naturalmente ci vado non più a presentare un libro, ma a vedere le cose. C'era stata prima, quando era ancora lontana l'ipotesi di qualunque candidatura, la polemica su questa bella scultura di Ontani, che io conosco ormai da 40 anni, forse di più, e che è una persona di grande fantasia, intelligenza e sensibilità, si è applicato al bronzo, mentre normalmente fa le cose in ceramica, ma vedrei soltanto un problema di superficie, cioè di tecnica esecutiva, dal punto di vista del soggetto è un'opera di fantasia, di sogno. Quante volte si sogna l'inferno, il demonio, delle cose anche sessualmente turpi, quindi questo è un sogno. Quindi c'è il bambino, c'è il satiro, tutte cose però che non possono essere criticate. L'ho detto a Pillon, non puoi fare le critiche su una cosa di un artista, poi tra l'altro sensibile, intelligente come Ontani, per cui l'amministrazione precedente ha fatto la scultura, l'amministrazione attuale ha capito che l'arte non va criticata, se non è un orrore, se non è una schifezza fatta male, questo è fatto anche bene, il marmo è bellissimo, occorrerà trovare il modo perché nel rapporto con l'acqua, che mi dicono qua molto pesante, il bronzo non abbia queste colature, questo è un problema tecnico. Per il resto è una bella invenzione, una stazione bellissima, si parte qua per andare a Silla, per andare in luoghi bellissimi, per andare a Poretta, quindi mi ha fatto anche piacere vedere questa piccola stazione che è un'altra stazione che fa venire in mente Tolino Guerra, dei viaggi per le colline, insomma alla fine la scultura qua davanti dà anche dignità e importanza perché nessuna stazione ha una scultura così significativa, di un autore così importante, quindi lode a Ontani, lode all'amministrazione, è bello anche il piccolo museo dove ci sono le sue opere e quindi adesso vado a vedere altre cose, vado a vedere… Hai fatto altre cose? Beh è giusto, me l'ho dimenticato, non lo stai sul Carlino, no, no, di più, ho scoperto un'opera di un autore, un neoclassico, si chiama Guizzardi, che avevate senza sapere cosa fosse, poi facendo un studio molto approfondito abbiamo trovato quell'autore Guizzardi e l'ho segnalato già al Carlino, ed è Socrate con Alcibiade, una bella tela che domina la parete della sala della Giunta, della sala del Consiglio Comunale, poi ho trovato uno scultore più giovane di Ontani che lavora con la pietra e con il legno che si chiama Alessandro Marchi, non era Alessandro prima, è diventato Alfredo Marchi che è il secondo artista, poi c'è anche Mataro però, quindi è una terra, ha una fantasia anche lui, poi c'è l'assessore e in tutto questo si sente un filone comune di sogno, forse stando qui uno si sente fuori del mondo e sogna, quindi sono artisti sognatori, anche nella bella testimonianza delle attività artigianali lasciate nei bassorilievi in pietra, anche dentro il comune, ma nel legno Marchi manifesta una bella fantasia, io gli ho chiesto di acquistare una scultura, lui ha avuto la gentilezza di donarla e come dire la conseguente fortuna che andrà al Castello di Ferrara dove io porterò una parte della mia collezione di scultura e quindi questa sarà l'ultima, il più giovane tra gli artisti esposti, poi la lascerò temporaneamente nella casa editrice di mia sorella della nave di Teseo e poi esporremo opere sue anche a Castella Abate dove abbiamo con i carabinieri un dialogo perché lì è nato un grande generale che ha fondato il nucleo che ha recuperato le opere d'arte rubate in tante circostanze, quindi una serie di occasioni e di incontri e sono felice di aver visto un artista così pieno di fantasia, poi ho trovato Elisa di Silla dove è andata, Elisa è sull'altra parte, anche lei è una scultura, poi le scarpine, è pieno di delicatezze qua. Grazie a tutti!